Le posso fare una domanda? Non so se questa cosa... Lei non so che non ne ama tanto parlarne, però è che lei ha citato San Padrignano nel grande percorso con suo marito. Io poi conosco tante persone vicino a lei, conosco sua figlia, quindi so cosa è stata per voi, San Padrignano. Tutti i weekend della vita, insomma, davvero una passione travolgente, Natale, Capodanno, insomma, un pezzo di vita vera. Ecco, insomma, vediamo delle immagini. Perché in quel documentario non ha mai voluto parlare in video? Non ha mai parlato veramente dopo? Cioè, cosa ci è successo in quel documentario? Che invece è tanto piaciuto, Sampa, agli italiani, che l'ha dispiaciuta invece? Che, insomma, ha fatto sì che lei fosse così distante? Ma, guardi, io non ho voluto... Non è vero che non ho voluto parlare. Io ero disponibile, ma non coincidevano le date mie con le date che mi proponeva la regista. Però è vero, quel documentario non mi è piaciuto, perché mi sembrava mettesse in luce solo le cose negative di Sampatrignano, che certo erano successe, ma che le volesse far credere come fossero il metodo di Sampatrignano. E così non era. Quindi sì, devo dire, non mi è piaciuto. È un documentario che non rappresenta la straordinaria esperienza di Sampatrignano. E me lo dice, mi fa una cortesia, me lo dice lei, Chiena Muccioli. Perché Gian Barco ha detto una volta il mio miglior amico, se non mi sbaglio. Ma era sicuramente una persona che amava la vita, amava la vita nelle sue forme, in tutte le sue forme. Amava le persone, amava gli animali, amava la natura. Era una persona che si dedicava agli altri, è una persona che può aver sbagliato sicuramente, ma era una persona che tutto quello che faceva lo faceva davvero con grande dedizione e con un grande amore. E io ho visto recuperarsi delle persone in questi anni che davvero era difficile pensare che potessero riuscire non solo ad avere una seconda opportunità, ma a coglierla. Quindi a prenderla e a uscire dal tunnel. Quindi lei dice, insomma, al di là degli errori delle ombre, delle tante discussioni che lui ha provocato, insomma, alla fine lei invece fa un bilancio molto positivo di quell'uomo. Ma guardi, io credo che i frutti si vedono dagli alberi. Quindi i frutti di Sampatrignano sono migliaia e migliaia di ragazzi che sono usciti dalla droga e i riconoscimenti internazionali che Sampatrignano ha. Sampatrignano è un ente consultivo delle Nazioni Unite. Sampatrignano in questo momento collabora con le principali università americane ed è citato dalle principali università americane come un modello terapeutico in un momento nel quale, tra l'altro, la droga, in maniera particolare gli opioidi, sono diventati una piaga. Per esempio negli Stati Uniti, l'anno scorso, ci sono stati più morti d'opioidi di potecini. Se lasci buoni frutti, qualcosa di importante è rimasto e questo è sicuro. Io l'ho visitato a Sampatrignano, i frutti ci sono. Devo andare in pubblicità.